Bene, come vedete, accanto a me, a questo tavolo, ci sono cinque oratori. Ci sono altri ospiti che eventualmente prenderanno la parola. Io invito tutti a contenersi nei 10-12 minuti canonici, in modo da non dilatare troppo questo dibattito. Mi corre solo l'obbligo di dire che rispetto al programma non c'è Jeff Cirsley, della FAO, il quale si scusa di non poter partecipare per i suoi impegni per la FAO, ma affida a Monica Zurek, che adesso prenderà la parola, l'illustrazione dei materiali elaborati assieme. Abbiamo ricevuto anche un messaggio del Presidente di Confartigianato, che si chiama Natalino Giorgio, non riesco a leggere perché ha firma sul nome, il quale scrive a Gisotti, Direttore di Modus Vivendi, ci impegni precedentemente assunti mi impediscono di essere a Bologna. A lei e a tutti gli illustri ospiti il mio sentito grazie e gli auguri per il maggior successo della manifestazione. Monica Zurek, che adesso ci illustrerà questo rapporto Millennium Ecosystem Assessment, focalizzerà il suo discorso con l'aiuto di alcune slides che potrete, spero, seguire sul monitor alle sue spalle, in particolare sul tema rapporto su ecologia ed economia. Ci sono diversi dati e diversi grafici che ci aiuteranno rapidamente ad inquadrare il problema a livello planetario. Lei parlerà in inglese, ma avremo una traduzione simultanea che ci aiuterà a seguire. Un riassunto, pezzo per pezzo, perché così chi non sente l'inglese può seguire meglio. Prego, Monica Zurek.